Il caldo turrido e senza trego di queste settimane, oltre a creare danni alle colture, comincia a incidere sullo stato di salute, a specie di anziani e bambini, i consigli degli esperti per affrontare al meglio questa fase difficile. Il rilancio dell'area industriale di San Nicola di Melfi dopo la grave crisi economica degli ultimi due anni passa anche per il rinnovo infrastrutturale. In occasione della visita del viceministro Morelli, RFI ha illustrato un intervento finalizzato a velocizzare i collegamenti in treno da e verso l'area nord. Costi energetici, rincari delle materie prime, crisi idrica, buone notizie per le aziende zootecniche che stanno subendo le conseguenze della crisi internazionale, ammonta circa 144 milioni di euro la dotazione finanziaria nell'ambito del decreto firmato dal ministro Patuanelli. Raccolta differenziata e orti verdi, punti di forza, male, la rete idrica e la gestione del suolo e un bilancio in chiaro-oscuro, quello della città di Potenza nella classifica dei capoluoghi in materia di sostenibilità ambientale su rifiuti, novità annunciate dall'assessore Fazzari. Nello sport in primo piano c'è il calcio, in serie C il Potenza aggiunge un altro tassello all'interno dello staff dirigenziale. Peppe Leolaico è stato confermato dalla società con il ruolo di team manager, in serie D è De Luca a sedersi sulla panchina del Francavilla. Buon pomeriggio dallo studio della nuova TG per ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale. Dunque, lo abbiamo sentito dai titoli, comincia a diventare insopportabile il caldo torrido di queste settimane con la colonnina di mercurio oltre i 35 gradi che oltre a creare danni alle colture comincia a incidere anche sullo stato di salute e soprattutto di anziani e bambini. I consigli degli esperti per affrontare al meglio questa fase difficile. Sentiamo Rocco Romanelli. Le ondate di calore sempre più intense e persistenti provenienti dall'Africa hanno scalzato ormai il più moderato anticiclone delle azzorre che caratterizzava le nostre estati lucane, calde sì, ma non torride. Le piccole oasi di verde delle nostre città non riescono a contrastare la grande quantità di calore emesso dall'asfalto e dagli edifici e quindi le temperature si innalzano maggiormente. Non va certo meglio nel traffico perché con il costo dei carburanti in continua crescita accendere l'aria condizionata ci permette un temporaneo ristoro ma poi bisogna tornare più spesso a fare rifornimento. Inoltre l'impennata dei costi dell'energia limita l'uso di condizionatori anche in ambiente domestico e allora per limitare gli effetti del caldo bisogna sempre seguire le regole del buonsenso magari affidandosi ai consigli di medici e farmacisti. Bere molta acqua, assumere più liquidi possibili anche con l'alimentazione, quindi più frutta, più verdura non uscire assolutamente nelle ore più calde. Non vale solo per anziani e bambini, vale un po' per tutti. Un sostegno può arrivare anche dagli integratori, ma come sceglierli? Ci sono molti integratori che potete utilizzare, le marche sono tantissime, per lo più quelli che contengono sali minerali sono quelli che vi aiutano maggiormente ad affrontare e a resistere contro questo caldo così pesante e ovviamente attenzione a scegliere quelli senza zuccheri per i pazienti diabetici, quindi la scelta va fatta in maniera accurata. Esistono integratori che poi hanno anche delle sostanze in più, degli aminoacidi per esempio che possono aiutare a combattere meglio la stanchezza, il senso di fatica. I pazienti covid o persone che hanno avuto il covid nell'ultimo periodo farebbero bene ad integrare oltre che con i sali minerali anche con degli aminoacidi. Ovviamente noi diciamo che non è importante solo l'integrazione ma anche l'alimentazione. E per chi si appresta ad andare in vacanza a cercare refrigerio nelle acque del mare non bisogna dimenticare la protezione. Mi raccomando protezioni alte soprattutto per i bambini, per gli anziani, per i fototipi più chiari ma non pensiamo di essere immuni al sole dopo esserci abbronzati perché non è così. La pelle va protetta sempre quindi con le protezioni adatte al fototipo e riapplicate anche più volte durante la giornata. Buone notizie per le aziende zootecniche che stanno subendo le conseguenze della crisi internazionale determinata dalla guerra in Ucraina e dagli aumenti dei costi energetici e delle materie prire a cui si aggiungono le conseguenze determinate dalla crisi idrica. Ammonta circa 144 milioni di euro la dotazione finanziaria nell'ambito del decreto firmato dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli circa 48 milioni di fondi comunitari sono stati attinti in applicazione del regolamento delegato europeo che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli più colpiti dalla crisi a cui si aggiunge un cofinanziamento nazionale pari a circa 96 milioni di euro. L'erogazione delle risorse ai beneficiari fa sapere l'assessore regionale alle politiche agricole Francesco Cupparo sarà effettuato entro il 30 settembre del 2022. Gli aiuti nello specifico sono destinati al settore dei suini, bovini fino a 8 mesi quelli di razze autoctone, al comparto vino caprino, al cuniculo, al pollame, alle produzioni avicole e alla trasformazione con un contributo a capo su richiesta da presentare all'Agea. In Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni sottolinea Cupparo abbiamo condiviso il sistema adottato di inglobare l'aiuto comunitario nei pagamenti accoppiati 2021 del settore zootecnico attualmente in corso di liquidazione da parte di Agea per velocizzare i tempi di erogazione dei contributi. E siamo alla crisi dei semiconduttori che alla fine ha inciso sui livelli produttivi delle autovetture al di là di ogni previsione è chiaro che a risentirne in forma maggiore come fa notare la FIM CISL che ha diffuso i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso sono proprio gli stabilimenti come quello di San Nicolà di Melfi che per molti anni ha prodotto oltre la metà delle autovetture che oggi detiene comunque una quota intorno al 38% del totale delle auto prodotte nel paese la crisi internazionale ha fatto il resto con lo stabilimento lucano che fa registrare il crollo più pesante, meno 17% rispetto al 2021 19.216 auto in meno si tratta dell'unico stabilimento che segna una perdita in rapporto a un anno fa resta comunque quello con il crollo maggiore anche sul rapporto al 2019 meno il 38% delle quasi 93.580 auto prodotte il 23% è rappresentato da 500X il resto sono vetture Jeep, 34% Compass e 43% Renegade a parere della FIM CISL anche per il 2023 esistima un volume massimo di 150.000 unità il meno 62% delle produzioni raggiunte nel 2015 dopo il lancio di Renegade 500X lo stop produttivo generato dal difficile approvvigionamento dei semiconduttori ha pesato enormemente sullo svolgimento nei primi sei mesi dei circa 161 turni di fermo gestiti con cassa integrazione ordinaria e contratti di solidarietà c'è da aggiungere prosegue la FIM CISL che tutto ciò ha poi determinato lo stop ai 17 turni che erano stati attuati in parte la mancata partenza dei 20 attesi a marzo con un impatto negativo su circa 1500 lavoratori per evitare ripercussioni negative si è dovuti intervenire con vari strumenti a partire dalle trasferte che ha visto coinvolti 250 operai e incentivazione all'uscita volontaria che nell'ultimo anno ha interessato 830 lavoratori c'è da considerare inoltre il nuovo contratto di solidarietà che partito dal 4 aprile terminerà il 7 agosto con la riduzione mensile dell'80% delle ore lavorative e il rilancio dell'area industriale di San Nicola di Melfi passa anche per le infrastrutture ieri in occasione della visita in Basilicata del Vice Ministro Morelli RFI ha illustrato un intervento finalizzato a velocizzare i collegamenti in treno da e verso l'area nord della regione Michelangelo Russo 5 milioni di euro per la progettazione della variante San Nicola di Melfi industriale intermodale l'annuncio lo ha dato ieri il direttore dello sviluppo commerciale territoriale RFI Roberto Laghezza in occasione della visita in Basilicata del Vice Ministro delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibile Alessandro Morelli tra i temi affrontati insieme all'assessore regionale a Ramo Donatella Merra anche il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie per il rilancio dell'area industriale di San Nicola di Melfi presenti all'incontro anche il senatore Pasquale Pepe e il sindaco di Melfi Giuseppe Maglione l'intervento è stato spiegato consiste nella realizzazione di un collegamento diretto Potenza Melfi area industriale di San Nicola di Melfi per velocizzare il collegamento in treno da e verso l'area nord l'infrastruttura ferroviaria ricordato inoltre l'assessore Merra è oggi dedicata al carico e allo scarico merci dobbiamo prioritariamente pensare al potenziamento del trasporto merci e in parallelo valutare le possibilità di realizzare un hub passeggeri con una bretella di interconnessione alla tratta Potenza Melfi Foggia senza passare per il gomito di Rocchetta Sant'Antonio tra le priorità di cui si è discusso quella di individuare un'area di intescambio quanto più vicina allo stabilimento il viceministro Morelli ha assicurato l'attenzione del governo affinché tutte le problematiche vengano sviscerate per dare risposta alle esigenze ha chiesto al Regione e Comune di Melfi un censimento delle necessità e ha convocato tutte le parti per il mese di settembre a un tavolo di concertazione che si terrà questa volta presso il Ministero I numeri della pandemia in attesa del report aggiornato gli ultimi dati non fanno che confermare la diffusione della nuova variante Omicron anche in Basilicata il campanello d'allarme è l'aumento dei recovery trend che si sta registrando in tutto il Paese che in Regione stando all'ultimo monitoraggio diffuso dalla Task Force regionale ha peggiorato il rapporto positivi tamponi ora al 43% un punto percentuale in più rispetto al report precedente sono 507 i nuovi casi accertati in Basilicata 492 residenti a fronte di 1177 tamponi analizzati circolazione del virus che fa registrare un'impennata nel Materano nella sola città dei Sassi se ne contano 103 complice il maggior flusso turistico anticipato già a maggio dal bel tempo e legato anche alle festività patronali 211 complessivamente contagi del giorno della provincia di Matera contro i 281 nel Potentino e continua a salire il numero delle persone ricoverate attualmente 67,5 in più rispetto al rapporto precedente con due assistiti in terapia intensiva all'ospedale San Carlo di Potenza dove sono 31 in tutto i posti letto occupati nei reparti Covid 36 invece al Madonna delle Grazie di Matera a cui l'area critica resta vuota nessun decesso mentre con 253 guariti i lucani alle prese con il virus in Basilicata sono 9.475 il direttore dell'ASP Luigi D'Angola fa chiarezza dopo l'incontro andato in scena venosa tra comune e pazienti dedicato al mancato ripristino della dialisi nel polo ospedaliero Oraziano D'Angola ha ribadito l'intenzione dell'azienda di ripristinare il presidio di nefrologia spostato al club di Rio Nero durante la fase critica della pandemia e con l'istituzione dell'ospedale cittadino a presidio Covid l'oggettiva carenza di nefrologi e le difficoltà di reclutamento avrebbero ostacolato la riattivazione nelle prossime ore assicura l'ASP saranno valutate soluzioni a fine di ripristinare l'attività pur nella carenza attuale di nefrologi e l'ASP assicura di farlo nel più breve tempo possibile raccolta differenziata a orti verdi sono i punti di forza male invece la rete idrica e la gestione del suolo è un bilancio in chiaroscuro quello della città di Potenza nella classifica dei capoluoghi in materia di sostenibilità ambientale su rifiuti e novità annunciate dall'assessore Fazza sentiamo Celestino Benedetto città verso la sostenibilità ambientale più mobilità dolce e orti urbani mentre perdite idriche fragilità del territorio e uso poco sostenibile del suolo rimangono i veri nodi irrisolti sono in sintesi le tendenze descritte nel rapporto città in transizione i capoluoghi italiani verso la sostenibilità ambientale che per la prima volta presenta una lettura dei trend ambientali delle 20 città capoluogo nell'arco temporale di 5 anni attraverso tre chiavi di lettura vivibilità, circolarità e resilienza ai cambiamenti climatici fotografando la transizione dei capoluoghi italiani verso la sostenibilità urbana è un bilancio in chiaroscuro però quello del capoluogo di regione Potenza guadagna qualche punto premiata per la mobilità dolce e gli orti urbani mentre resta indietro quanto a perdite idriche e gestione del suolo gli unici progressi si registrano nella raccolta differenziata dei rifiuti pur rimanendo ancora su valori al di sotto del 20% con il 17,4% Con il piano industriale di Acta stiamo cercando di migliorare quelle criticità presenti per la raccolta differenziata quindi siamo ben orgogliosi di andare avanti in questa direzione Non mancano in città le criticità specie nelle zone periferiche e nelle contrade e l'assessore Fazzari annuncia alcune novità Sicuramente ci sono delle criticità nell'area extraurbana che noi stiamo attenzionando sia da un punto di vista con la polizia locale quindi le fototrappole per l'abbandono dei rifiuti sia diciamo con il potenziamento dei controlli in tutte le postazioni sicuramente appunto con il nuovo piano industriale vorremmo passare diciamo nelle aree extraurbane dai contenitori di prossimità ad un porta a porta in questo modo si eviterebbe tutto quello che è l'abbandono dei rifiuti L'amministrazione invita però tutti i cittadini anche ad un maggior senso civico Un appello a tutti i cittadini quello di più senso civico perché noi come amministrazione più che incrementare quelle che sono le isole ecologiche tant'è che ci sono altri progetti in essere per la città di Potenza vorremmo fare un appello a tutti i cittadini appunto di evitare l'abbandono dei rifiuti e sostanzialmente anche quando voglio dire si vedono queste criticità di denunciarle alla polizia locale E da Potenza ci spostiamo a Matera monta la polemica su alcuni disservizi patiti durante le celebrazioni della Madonna della Bruna protettrice della città dei Sassi questa volta a finire nel vortice delle critiche e il servizio straordinario di trasporto pubblico urbano il consigliere Nicola Casino capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale fa sapere di aver depositato una interrogazione rivolta al dirigente del settore Paolo Milillo e all'assessore Michelangelo Ferrara Casino si fa portavoce delle lamentere di alcuni utenti pare che l'erogazione del servizio non avesse rispettato la tempistica delle partenze ogni 20 minuti indicata nel capitolato d'accordo con la Miccolis i maggiori disservizi si sarebbero verificati proprio nella giornata del 2 luglio e nella fascia oraria 23.2 subito dopo la festa i cittadini hanno atteso anche un'ora spiega Casino prima di poter raggiungere la zona di interscambio dove erano state parcheggiate le proprie autovetture il consigliere comunale forzista ricorda inoltre che per il servizio speciale il comune ha speso 4.000 euro ha preso il via questa settimana a Sant'Arcangelo la seconda tappa dopo Montoro nella provincia di Avellino dello studio nazionale Prevasc prevalenza delle malattie cardiovascolari che si propone di esaminare lo stato di salute cardiovascolare degli italiani over 65 attraverso una rilevazione su un campione di 2.000 con cittadini in questa fascia d'età si tratta di uno studio trasversale basato sulla popolazione uno dei più ampi mai effettuati nel nostro paese che sarà condotto in 10 comuni di altre tante regioni italiane scelti per dimensioni e popolazione intorno ai 2-3.000 abitanti per mettere una più efficace prevenzione di comunità i partecipanti sono sottoposti gratuitamente a visita cardiologica elettrocardiogramma ed ecocardiografia spiega Alessandro Boccanelli vicepresidente società italiana di cardiologia geriatrica e coordinatore dello studio la tappa battezzata il cuore di Sant'Arcangelo è in corso al poliombulatorio del paese grazie all'impegno degli specialisti cardiologi dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza Eugenio Tropeano confermato alla guida dell'associazione italiana sommelier di Basilicata le elezioni del 26-27 giugno scorsi hanno visto altresì confermato tutto il gruppo lucano delegato di Potenza e Biagio Motta quello del vultore melfese Daniele scapicchio il delegato di Matera e Samuele Olivieri oltre ai due consigliere eletti Raffaele Marsico e Andrea Possidente sarà invece Giovanni Luigi Corrado il presidente dell'organo di controllo regionale per la prima volta le elezioni dell'associazione italiana sommelier si sono svolte in modalità online nel completo rispetto della sicurezza della privacy e dell'anonimato del voto grazie alla collaborazione della società tedesca Polias questo ha permesso di raggiungere un dato di affluenza nazionale del 46% superiore del 16% rispetto ai numeri di 4 anni fa la Basilicata in Basilicata l'affluenza è stata la seconda più alta tra tutte le regioni superando il 58% e stiamo allo sport calcio serie C il Potenza aggiunge un altro tassello importante dello staff dirigenziale Peppe Lolaico è stato confermato dalla società con il ruolo di team manager sentiamo Donato Valvano il Potenza comincia a mettere nuovi tasselli all'interno dello staff dirigenziale dopo settimane di corteggiamento e di colloqui ora è ufficiale l'ingaggio di Peppe Lolaico con il ruolo di team manager in realtà si tratta di una conferma in quanto Lolaico ha rivestito tale ruolo già nelle ultime 4 stagioni per Lolaico il prolungamento di una carriera ha forti tinte e rosso-blu visto che ha indossato anche la fascia di capitano del Potenza oltre ad essere stato uno degli eroi di Benevento nel 2007 con la promozione in Serie C1 dopo la vittoria dei play-off contro i giallorossi con il suo ingaggio ufficiale la società ripristina sia pur parzialmente un discorso di continuità con le precedenti gestioni immettendo al suo interno quel pizzico di potentinità richiesta dalla piazza dopo aver sistemato un altro tassello a livello dirigenziale il direttore sportivo Fortunato Varra è sommerso dal lavoro e in questa settimana potrebbe chiudere diverse trattative già imbastite da giorni per quel che riguarda il rafforzamento della rosa da mettere a disposizione del tecnico Sebastiano Siviglia l'allenatore non vede l'ora di cominciare a lavorare sul campo e trasmettere quelli che sono i suoi concetti alla squadra a tal proposito non ci sarà da aspettare tanto visto che la società ha ufficializzato la sede e le date del raduno che arriverà il 17 luglio al Giubileo Hotel a rifreddo e dal 18 si inizierà a sudare sul campo in sintetico messo a disposizione dalla struttura alberghiera il Cavaliere Gran Relais il ritiro coinvolgerà almeno in questa prima fase anche i ragazzi delle giovanili che verranno valutati attentamente da mister Siviglia e dal suo staff per capire quali e quanti di loro possano entrare sin da subito in pianta stabile della prima squadra in serie D invece il Francavilla ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore dopo Ragno si tratta di Claudio De Luca l'allenatore nativo di Castellana Grotte ha una nuova dose di esperienza in serie D avendo allenato tra le altre il Monopoli il Bigeglie il Gravina l'Altamura il Vendizio e il Bitunto anche il Matera ha ufficializzato il nome dell'allenatore per la prossima stagione confermando il tecnico della promozione Indie Antonio Finamore ed è tutto si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale prossimo appuntamento con l'informazione alle 17 con il nostro TG Flash prima della prossima edizione del TG in studio alle 19 grazie per averci seguito a tutti voi in buon proseguimento di giornata